Benvenuti in questo nuovo video di giardinaggio, oggi quello che voglio farvi vedere è come seminare i pomodori in semenzaio. Per prima cosa ci dobbiamo procurare un contenitore simile a questo, oppure dei semplici bicchieri di plastica. Vediamo che questo contenitore ha dei fori sul fondo per far uscire tutto l'acqua. Il secondo passo da fare è quello di riempire tutti i fori con della semplice torba universale. Una volta riempito il contenitore di torba andiamo a piantare i nostri semi. Ne possiamo mettere due in ogni foro. Con l'aiuto di uno stuzzicadente andremo a inserire il seme ad una profondità di qualche centimetro. la profondità non deve essere troppo eccessiva perché il seme può marcire. la temperatura varia dai 25 ai 30 gradi centigradi. Nel giorni successivi mantenete sempre umido la torba. Vi ricordo di non esagerare con l'acqua, per evitare i marciumi ai semi. Se questo video ti è stato utile in qualche modo, lascia un pollice in su e iscriviti al mio canale se ancora non sei iscritto. Ciao al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.